Bacchette pronte, cin cin dal rosicin! Oggi prepariamo gli ocra. Dalla forma curiosa e dal sapore delicato, ha bisogno di essere insaporito. L'ocra bollito è un ottimo piatto vegetariano. Consumato come piatto unico, contorno oppure antipasto freddo. Ottimo per queste temperature che si stanno alzando. Consiglio di cucinare l'ocra in acqua bollente per 3 minuti, con un cucchiaio di sale e un cucchiaio di olio di semi. Zucchero, sale, peperoncino, anice stellato, alloro, cannella, sesamo, zenzero, erba, cipollina e aglio. E lasciamo che l'olio caldo faccia la sua magia. Amici di GZ, il profumo delle spezie è inebriante.